Il sindaco parla di piano di governo, versione pop, facendo riferimento a uno strumento che non sarà più confinato a uffici comunali e professionisti del ramo urbanistico, bensì esteso concretamente a obiettivi, esigenze, criticità e desiderata della cittadinanza. Questa volta, proprio per la situazione, la fase che viviamo con una grande attenzione alle tematiche ambientali e alle tematiche socio-economiche, vorremmo cercare di far capire l'importanza di questo strumento ai cittadini comuni. Concetti ribaditi dal Rettore dell'Università dell'Insubra, partner di una ricerca che passerà al setaccio e analizzerà i dati raccolti per fornire un rapporto articolato, multiforme e dinamico della Varese di oggi, nell'auspicio di poter meglio delineare il capoluogo che verrà. Perché avrà una ricaduta notevole nei prossimi anni sul comune vivere, sul comune sentire di tutti i cittadini. Tra i punti essenziali dell'analisi l'aspetto demografico, quello industriale e quello turistico, con un focus dedicato al tema degli anziani, sempre più numerosi, spesso soli, riflesso di una città che per dirsi matura deve impegnarsi a includere, assistere e valorizzare, senza dimenticare alcuni, dei temi cardine del momento. Nel nostro lavoro ci occuperemo tanto delle tematiche del lavoro trasfrontaliero, quanto delle tematiche di skill match, tra domanda e offerta di professionalità di lavoro e anche di dialogo, possibilmente, tra i soggetti che nella formazione, con diversi ruoli, si occupano appunto della creazione di queste professionalità. I dati, specificano gli esperti, non sono riflessi freddi e impersonali, bensì tasselli che, se ben studiati, illuminano percorsi e traiettorie, altrimenti imponderabili. Un rapporto nel quale il territorio di Varese parla attraverso i dati che sono stati raccolti dagli uffici e dagli assessorati del comune. Valore aggiunto, insomma, alla componente multidisciplinare che gli accademici metteranno a disposizione. Un lavoro corale che, naturalmente, si rifletterà e produrrà effetti a lungo termine con grande visione per il futuro.